Da segnalare il crollo di una miniera di carbone in Cina. Una persona è morta, un minatore, 19 altre persone intrappolate che si trovano sotto le macerie. I soccorsi si sono verificati da subito in maniera tempestiva per liberare le povere 19 persone che purtroppo sono rimaste intrappolate nel sottosuolo della miniera di carbone. Si trova precisamente nella prefettura autonoma di High Bay, questa miniera di carbone, nella provincia del Quingai ed è crollata per colpa di un'inondazione che sta colpendo l'inondazione stessa e l'alluvione o meglio proprio anche la Turchia. Una persona, un minatore è morto, 19 intrappolate di persone e tutto ciò ci viene informato grazie alla dovuta competenti. Adesso sta lavorando per far sì che questi 19 esseri umani vengano liberati dalle macerie. Non è semplice, non è facile, non è semplice, ripeto, è drammatico. Grazie a tutti i cari utenti di YouTube, il video termina qua. Iscrivetevi al canale Narratore Italiano, commentate. Un saluto ne caro e al prossimo video una buona giornata. Leandro, Narratore Italiano.